Quinta tappa del People's Poker Tour 2012 al Casinò Perla di Nova Gorizza, siamo al Day 1A iniziato da tre livelli, sono 83 i giocatori iscritti a questo primo giorno di torneo, ci sono molti big ai tavoli, abbiamo visto Max Pescatori, Rocco Palumbo il campione del mondo, Erion Islamai, Costantino Russo che è una B2E dei PPT e spesso al tavolo finale ci sono anche 17 giocatori dei team partner di Poker Room, c'è la nostra pro Irene Baroni che si è seduta al tavolo sin da subito per sfatare un tabù che finora non l'ha mai vista arrivare al Day 2 ai PPT, tanti altri giocatori saranno 55 in totale con i giocatori del Day 1B, i giocatori che terranno alta la bandiera dei siti partner di Poker Room, facciamo ovviamente a tutti loro l'in bocca al lupo, intanto noi ci andiamo a seguire questo Day 1A della quinta tappa del People's Poker Tour 2012 dal Casinò Perla di Nova Gorizza. Grazie a tutti! Grazie a tutti!